Klaus ci hai mostrato una slide che faceva vedere che il mercato della videosorveglianza è giunto finalmente su IP alla sua fase di maturazione, ma questo cosa significa? Dunque significa che la fase iniziale del mercato IP che è stata quella di avvicinarsi alla pubblica amministrazione dove c'erano i soldi per i grandi impianti, le grandi imprese, soprattutto quelle multinazionali che di fatti sulla sicurezza investono, sta diventando una parte del nostro lavoro relativamente meno importante, ovvero ci vendiamo ancora, ci lavoriamo, abbiamo i prodotti che appunto sono destinati a soddisfare il cliente complesso di alta gamma, però quando sulla slide diciamo che il mercato sta arrivando verso la maturità o si sta maturando comunque, intendiamo anche che le dinamiche della vendita si stanno spostando su clienti meno importanti in termini di dimensione, ovvero non 100 telecamere, non 1000 telecamere, ma 50, 30, 20 e quindi ci stiamo avvicinando a un segmento del mercato dove innanzitutto il cliente ha meno denaro, ha anche delle esigenze meno complesse, non richiede necessariamente sempre l'integrazione tra video e controllo accessi, piuttosto che l'integrazione tra video e anti-intrusione, ma vuole semplicemente un sistema di video sorveglianza e al contempo noi come Milestone vediamo che il mercato si è agguerito proprio su quel segmento, c'è tanta offerta, chi produce una soluzione valida per quel tipo di cliente sono tanti, sono sia produttori WMS, quindi competitor paragonabili direttamente a quello che fa Milestone o i produttori stessi di telecamere che hanno sempre avuto un loro software che adesso trova sempre maggior riconoscimento dal cliente stesso, dal cliente finale. Incalzando questo segmento Milestone, innanzitutto Milestone è deciso di inseguire quel segmento, uno perché venendo da tecnologie sempre più performanti di quello che chiede quel segmento possiamo produrre dei prodotti performanti, stabili, basati sulla nostra esperienza a costi inferiori di quelli che sono i nostri prodotti alta gamma e quindi ci rivolgiamo ai nostri channel partner, ai nostri distributtori con questo tipo di prodotto. abbiamo in quel frangente introdotto Arcus e Arcus è un prodotto software sempre che come missione ha quello di trovare un nuovo canale di vendita rispetto al nostro software che già vendiamo attraverso i channel partner Arcus non è in vendita Arcus è un software che viene dato a seguito di un accordo di partnership mondiale solitamente con produttori di hardware si trova solo a bordo di questi hardware perché c'è quell'accordo di accordi probabilmente nel tempo ne faremo anche molto di più di quei tre che ci sono adesso ed è proprio per arrivare a un segmento di mercato dove la facilità d'uso, la facilità di installazione è all'ordine del giorno così come lo è il prezzo, il prezzo vantaggioso sono prodotti non destinati a integrarsi con altri sistemi di sicurezza e sono prodotti destinati a abbreviare i tempi di installazione di chi già ha di videoservianza su IP se ne intende ma anche dare una mano all'imprenditore nella sicurezza abituato a lavorare con sistemi analogici e è chiaro che poi alla fine del giorno tutti viviamo dal guadagno netto e auspichiamo praticamente che questi prodotti possano aiutare questi colleghi, i partner di canale a avere una marginità nelle loro vendite una marginità sulla vendita dell'IP abbassando i tempi necessari a concludere il lavoro oggi abbiamo raccontato la storia di Luigi Esposito un povero installatore, un installatore di sicurezza alle prese con il mercato, con il mercato in Italia con una congiuntura finanziaria sicuramente complicata quale suggerimento diamo a questo installatore per sopravvivere ma magari anche per guadagnare in un momento così? Luigi Esposito di fatti è un professionista innanzitutto ha la volontà di mettersi in discussione e trovo che sia la primissima caratteristica per crescere e continuare a sopravvivere e quindi Luigi Esposito ha deciso di mettersi in discussione sul punto di vista del prodotto che vende quindi ha deciso di affrontare l'IP ha deciso di anche gestire come spendere meno tempo per vendere ovvero arrivare al dunque porre domande dirette tipo quanto è il budget, entro quando deve spendere il suo budget ha altri prodotti per cui ha delle preferenze da installare tutte domande dirette, senza fronzoli perché Luigi a questo punto sa se deve andare avanti o se deve tagliare corto e andare da un altro cliente e spendere meglio il suo tempo iscriviti al nostro canale